Come dirà De Sanctis, un grandissimo storico della letteratura italiana, nel 1700 abbondavano i satirici, era la moda, Goldoni e Passeroni, i fratelli Gozzi, Pietro Berri, Martelli, che non sono io, e Casti, tutti mordevano quella vecchia società per un verso o per l'altro, a frammenti, c'era tutto un materiale più o meno elaborato, mancava l'artista e quando uscì il mattino tutti si inchinarono, era comparso l'artista. In effetti Giuseppe Parini, cosa dice qua De Sanctis? Dice che nel 1700 la letteratura di tipo satirico, nei confronti di quella che era la società dell'epoca, una società che veniva percepita sempre più arretrata, una società che veniva percepita come una società proprio da riformare, in senso illuministico, e la letteratura satirica abbondava, Goldoni abbiamo visto con le sue opere, che sono opere di teatro, per esempio con la trilogia per la villeggiatura, fa proprio ironia su quelle che erano le mode dell'epoca. Eppure che cosa dice De Sanctis? Dice mancava l'artista e quando uscì il mattino, che è una parte della grande opera di Giuseppe Parini, ovvero il giorno, tutti si inchinarono, dice. Giuseppe Parini, che forse è passato un pochino di moda in tempi recenti, in realtà nel 1700 era percepito come un grandissimo, tanto che entrerà anche nell'opera di Foscolo, Foscolo lo citerà come veramente un grandissimo poeta. Giuseppe Parini vive dal 1729 al 1799. Parini nasce nel 1729 a Bosisio, siamo vicino a Lecco, nei pressi di Lecco. Bosisio è cittadina che oggi si chiama Bosisio Parini, proprio in onore dell'illustre poeta. Nasce da una famiglia borghese, nasce da una famiglia di piccoli commercianti di seta, al padre commerciava la seta, però ben presto verrà portato dalla prozia, la quale ci teneva tanto all'istruzione del nipote, a Milano, quindi il grande centro culturale ed economico dell'epoca dove intraprende studi umanistici. Prima di morire la prozia lascia una sorta di testamento a Giuseppe Parini, una sorta di pensione, con la condizione che lui prendesse i voti e si facesse sacerdote. Quindi lui accetta questo compromesso e si fa sacerdote, anche se al di là della vocazione religiosa diciamo che Parini si interessò moltissimo, oltre che di poesia naturalmente, di politica. In quegli anni in Lombardia abbiamo il governo chiaramente degli austriaci, degli Asburgo d'Austria, in particolar modo di Maria Teresa, una sovrana illuminata. Quando si parla di sovrani illuminati non si può non citare Maria Teresa. Perché sovrana illuminata? Perché grazie a Maria Teresa in Lombardia noi avremo tutta una serie di riforme che faranno sì che effettivamente il Nord Italia abbia in questo periodo uno sviluppo molto molto veloce. Fra questo ci sarà la riforma della scuola, l'apertura di scuole laiche, la prima introduzione di una sorta di obbligatorietà di istruzione elementare, l'introduzione di un catasto che facesse vedere quelli che erano i cittadini più ambienti e quelli meno ambienti, anche per distribuire in maniera più razionale le tasse. L'abolizione della tortura, siamo in linea con quello che viene fatto da Pietro Leopoldo in Toscana che abolirà la pena di morte. Parini, che era sicuramente un illuminista convinto, un progressista e credeva in questi nuovi ideali che appunto erano stati portati dall'illuminismo, diciamo che guardò con occhio assolutamente benevolo il governo di Maria Teresa d'Austria. Diciamo che Parini era un uomo equilibrato, un uomo moderato, era sicuramente un riformatore ma non cadeva mai negli eccessi. Nel 1753 entra a far parte, grazie a un libretto di poesie che aveva scritto, entra a far parte dell'Accademia dei Trasformati. Lo dice il nome stesso l'Accademia dei Trasformati era una sorta di circolo di intellettuali, di poeti intellettuali che credevano proprio nell'importanza del progresso, progresso sociale, economico e tecnologico. È un momento importante per Parini perché qui comincia a scrivere le Odi. Le due grandi opere importanti di primi sono le Odi e il giorno. Le Odi sono poesie, lo vedremo successivamente, di ispirazione civile, cioè sono poesie dove lui tratta temi di scottante attualità, ok? E lo fa con una poesia di impostazione classica ma appunto i temi sono molto attuali. Tra il 1754 e il 1768 svolge l'incarico di precettore privato presso due case signorili. Prima quella dei Cerbelloni, poi litiga sostanzialmente con la Duchessa perché la vede picchiare praticamente la figlia dell'insegnante di musica e lui questa cosa proprio non la accetta. E poi presso gli Imbonati. qui ha modo di conoscere l'ambiente aristocratico, un ambiente che in realtà lo disgusta tanto che arriverà a scrivere proprio il giorno. Il giorno lo vedremo dopo, proprio un'opera satirica di denuncia di quello che era il mondo dell'aristocrazia. Nel 1768, proprio perché lui appoggiava l'impero di Maria Teresa d'Aus, gli vengono affidati dall'impero asburgico degli incarichi molto molto prestigiosi. Viene nominato poeta del regio teatro ducale, dove peraltro scriverà un'opera teatrale che doveva fare da accompagnamento alle nozze di uno dei tantissimi figli di Maria Teresa d'Aus, adesso non mi ricordo quanti ne avesse, 13-14. Opera che viene tra l'altro messa in musica dall'allora quindicenne Mozart. Viene nominato direttore della Gazzetta di Milano, che era sostanzialmente il giornale ufficioso imperiale. Viene nominato docente della Cattedra di Eloquenza presso le scuole palattine, che è una scuola molto prestigiosa che poi diventerà una scuola regia e poi anche gli verrà affidata la Cattedra all'Accademia delle Belle Arti. Nel 1777, come spesso accadeva per gli intellettuali dell'epoca, entra a far parte dell'Accademia dell'Arcadia, chiaramente con il solito pseudonimo da pastore. Lui era un grande amante dei classici, un grande amante dei classici, aveva una cultura sconfinata e in effetti le sue poesie sono piene di richiami e di allusioni alla poesia classica. E quindi chiaramente ha sicuramente trovato un influsso da parte dell'Accademia dell'Arcadia. Anche se dicevamo prima, le tematiche di Parini sono comunque tematiche molto molto attuali, quindi niente boschetti arcadici, niente di tutto questo. Tra il 1780 e il 1789 però noi abbiamo in Europa e chiaramente anche in Italia una serie di rivolgimenti politici che porteranno Giuseppe Parini a una riflessione e a una vera e propria anche delusione politica. Innanzitutto per il 1780 muore Maria Teresa d'Austria e ascende il figlio Giuseppe II, il quale fa in in realtà un vero e proprio passo indietro rispetto alla madre. Tutt'altro che sovrano illuminato, Giuseppe II accentrerà molto su di sé il potere centrale e questa cosa distaccherà un pochino Parini dall'appoggio che prima aveva dato appunto all'impero sbuggico. E poi soprattutto nel 1789 noi abbiamo la presa della Bastiglia e l'inizio della rivoluzione francese, le cui idee, no? Gli ideali di giustizia, di uguaglianza sociale, di fratellanza, sono tutte cose che Parini condivideva. Il problema è che, come sapete, ben presto la rivoluzione francese finirà poi nella cosiddetta epoca del terrore e Parini non accettò chiaramente questa deviazione della rivoluzione francese e guardò con profonda amarezza i risvolti appunto di tale rivoluzione. Nel 1796 tra l'altro i francesi arrivano a Milano, arrivano a Milano, mettono su una sorta di governo provvisorio, la cosiddetta municipalità, formata da un consesso di cittadini autorevoli e tra l'altro Parini, che godeva di una certa stima, viene chiamato a far parte di questa municipalità. All'inizio lui accetta, poi in realtà un po' perché era ormai anziano e aveva tutta una serie di problemi di salute che rendevano difficile questo lavoro, era praticamente ormai privo della vista, tra l'altro aveva un'artrite molto dolorosa e lui ma soprattutto rimane fortemente deluso dal tipo di governo che viene emesso dai francesi con un lungo discorso, un discorso anche molto toccante, rassegna le dimissioni dicendo che l'Italia è libera sostanzialmente, non dovrebbe stare sotto Parigi. Rassegna le dimissioni e praticamente subito dopo nel 1799 Parini muore. Per circa 40 anni della sua vita, dal 1757 al 1795, Parini è impegnato nella stesura delle odi. Odi che fanno riferimento al termine ode, l'ode che cos'è? Un componimento lirico che può avere insomma forma metrica di tipo vario, che spesso ha un tono alto e temi prevalentemente di ordine morale o civile ma anche amoroso. L'ode nasce in Grecia, poi si diffonderà anche nel mondo latino, famose sono per esempio le odi di Orazio. Orazio è sicuramente un punto di riferimento per Giuseppe Parini. Che cosa sono le odi? Le odi, dicevamo, sono appunto questi componimenti che Parini scrive che hanno prevalentemente una tematica di tipo civile e morale e qui noi troviamo veramente quello che è l'ideale poetico di Parini, che è un ideale diciamo dove ritroviamo quel concetto di Oraziana Memoria che è il cosiddetto miscere utile, dolci, cioè usare la dolcezza della poesia, la bellezza della poesia per parlare di qualche cosa di moralmente e eticamente utile. Lo stesso Parini dice questo della poesia, dice la poesia muovendo in noi le passioni può valere a farci prendere aborrimento al vizio dipingendoci nella torpezza e a farci amare la virtù imitandone la beltà, no? Quindi troviamo proprio il concetto di poesia come un qualche cosa di utile, come un qualche cosa che istruisce e che insegna. La cosa veramente notevole delle odi è che da un lato noi troviamo una lingua e una struttura metrica che ci fa vedere proprio tutta la cultura classica di Parini, no? La struttura è quella tipica delle odi, strofe sestine di settenari, quindi sono versi settenari con una struttura metrica che vede un alternarsi, diciamo due rime alternate a B a B e una coppia di rima baciata C-C. Si tratta di una poesia aulica, di una poesia ricercata con una lingua sicuramente che ha un registro di tipo elevato piena di rimandi classici e di riferimenti alla poesia antica. Quello che è veramente notevole è che sono invece i temi, le tematiche, perché se l'impostazione è classica le tematiche sono assolutamente attuali e contemporanee, ok? E troviamo qui veramente il Parini progressista, il Parini luminista, soprattutto le prime odi, qui vi ho citato le più famose che trovate poi anche sul vostro libro, la salubrità dell'aria che ha come tema di fondo l'inquinamento, cioè è una vera e propria accusa a quella che è l'inquinamento dell'aria. L'innesso del vaiuolo, altra ode molto molto famosa, dove si parla di che cosa? Si parla dell'invenzione proprio del vaccino contro il vaiuolo e allora come ora le polemiche contro il vaccino erano fortissime, perché? Perché la gente aveva paura, temeva che fosse pericoloso e invece Parini, davvero progressista, dice no abbiamo trovato finalmente attraverso la scienza il sistema per debellare una malattia mortale e dice non dobbiamo aver paura del progresso, non dobbiamo aver paura di ciò che è nuovo e della scienza. Il bisogno dove tratta il problema della criminalità e qua si vede tantissimo l'influenza di Cesare Beccaria, perché lui che cosa dice? Dice se vogliamo eliminare la criminalità dobbiamo minare il problema alla base, cioè ridurre le diseguaglianze sociali, non servono le pene, non serve la tortura, serve creare una società giusta e vedrete che la criminalità scomparirà. E poi l'altra ode, anche questa è un'ode di denuncia intitolata la musica, dove praticamente Parini se la prende con quell'usanza per cui i ragazzini che intraprendevano appunto la carriera del canto venivano letteralmente evirati. Questo era un sistema per cercare di mantenere la loro voce pulita e squillante, che è la voce che un bambino generalmente ha e che poi con l'arrivo dell'età adulta chiaramente matura e cambia. Le ultime odi che vengono pubblicate dopo un periodo abbastanza a lungo di silenzio sono le odi della maturità, le odi che Parini scrive in un momento in cui è rimasto fortemente deluso dalla società e sono odi un pochino più distaccate, sono odi che si allontanano dai temi dell'attualità e sono un pochino più intimistiche. Qui affronta tematiche diverse, affronta il tema della libertà, il tema dell'importanza della poesia, dell'amicizia. Qua vi ho citato tre odi famose, la tempesta dove parla proprio dello sconvolgimento politico portato dall'arrivo di Giuseppe II, la caduta, ne leggeremo un pezzettino, e alla musa dove parla proprio dell'importanza educativa della poesia. Leggiamo l'ultima parte dell'ode la caduta, che è sicuramente una delle più famose di Parini ed è anche una delle ultime. La leggiamo perché è un'ode in parte autobiografica, è una sorta di manifesto poetico e etico dove Parini fa vedere quella che è la sua integrità morale, no? Che cosa racconta? Siamo a Milano, è febbraio, piove, il poeta ormai ha 60 anni e zoppica, zoppica, inciampa in una pietra e cade, cade, si fa male. Un giovane passa di lì, lo vede e ride in un primo momento, considera questa scena ridicola, poi guarda meglio, si pente e ha pietà di lui. Passa un altro uomo, un passante, lo riconosce, vede che è il grande Parini, d'altra parte Parini era diventato molto famoso all'epoca e lo aiuta a rialzarsi e poi fa un lungo discorso che irrita da morire Parini dove gli dice ma perché tu non ti metti al servizio, no? Dei grandi, dei potenti, tu che sei famoso, no? Perché non sfrutti questa cosa? Perché non ti arruffiani i grandi, i ricchi, i potenti e non fai in modo, arruffianandoteli, di convincerli a fare qualche cosa di utile per la società. E questo che può essere anche considerato un discorso di buon senso in realtà viene totalmente rigettato da Parini e in questi versi dal 77 al 104 che trovate la pagina 518 troviamo un vero e proprio manifesto di quella che è la poetica e l'etica di Parini perché Parini è un uomo integerrimo e non accetta questo e sarà la qualità che più verrà apprezzata del poeta soprattutto per esempio da un gofoscolo. Allora vediamo che cosa dice, qui troviamo proprio la risposta di Parini a quest'uomo. Mia bile, al fin costretta già troppo, dal profondo petto rompendo getta impetuosa gli argini e rispondo chi sei tu che sostenti a me questo vetusto pondo e l'animo tenti a prostrarmi a terra, umano sei, non giusto. E dice la mia bile, la rabbia che avevo trattenuto dentro di me fin troppo, irrompe fuori dal petto e straripa rompendo tutti gli argini. A quel punto io rispondo chi sei tu che sorreggi questo peso, il peso di questo vecchio ma che al tempo stesso tenti l'animo a prostrarmi a terra. Cioè che cosa vuol dire questo? Chi sei tu che sì da un lato sorreggi il peso del corpo ma che dall'altro lato cerchi di atterrare il mio animo, di prostrarlo a terra, di renderlo schiavo. Dice sei umano sicuramente, sei gentile ma non sei giusto. Buon cittadino al segno dove natura i primi casi ordinare lo ingegno guida così che lui la patria estimi. E dice il buon cittadino indirizza il suo ingegno alla meta a cui lo hanno destinato la natura, cioè l'indole e le condizioni iniziali, le condizioni di partenza che lui la patria estimi affinché la patria abbia stima di lui. Lui praticamente che cosa sta dicendo? Che il buon cittadino deve seguire quella che è la sua indole iniziale non deve farsi condizionare dalla vecchiaia, dalla debolezza, in modo che la patria continui ad avere stima di lui. Quando poi, d'età carco, il bisogno lo stringe, chiede opportuno e parco con fronte liberal che l'alma pinge. E dice quando poi, d'età carco, quindi quando poi è carico dall'età, quando poi è invecchiato, il bisogno, le necessità lo costringono, no? Egli che cosa deve fare? Deve chiedere, deve domandare, ma con modo opportuno e con sobrietà. Dice opportuno e parco, mantenendo che cosa? La fronte liberale, no? Mantenendo la testa alta, mantenendosi libero che l'alma pinge, che dipinge l'anima. Quindi con una fronte liberale che faccia vedere quella che è l'anima, no? Quella che è l'anima di un uomo libero. E se i duri mortali a lui voltano il tergo, e si fa contro ai mali della costanza, sua scudo ed usbergo. E dice se i mortali, no? Se gli altri uomini gli voltano le spalle, allora lui contro ai mali rende per se stesso come scudo e come usbergo, come corazza, la costanza. Cioè si protegge, protegge se stesso dai mali esterni con la costanza. né si abbassa per duolo, né s'alza per orgoglio. E non si fa abbassare, no? Non si umilia a causa del dolore e né si alza per orgoglio. Qua vediamo proprio quello che è il concetto di misura, no? Il concetto di sobrietà, che è un concetto profondamente, diciamo, connaturato all'animo di parini. E ciò dicendo solo lascio il mio appoggio e bieco indi mi toglio. E dice dicendo così io lascio il mio appoggio. Quindi si divincola dalla stretta del passante e lo guarda di sbieco, no? Si toglie dal suo braccio e lo guarda di sbieco. Così grato ai soccorsi ho il consiglio a dispetto e privo di rimorsi col dubitante pie, torno al mio tetto. E dice così io sono grato per il soccorso che mi è stato dato, ma disprezzo il consiglio invece. E senza rimorsi, dice col dubitante pie, con il piede zoppicante, torno a casa mia. Poi abbiamo il grande capolavoro di Parini, Il Giorno. Un'opera molto particolare cominciata nel 1763, ma che in realtà occuperà Parini praticamente per tutta la sua vita. Di che cosa si tratta? Allora sostanzialmente è un poemetto di Dascalico. Sapete benissimo di che cosa si tratta, no? Perché l'abbiamo visto per esempio quando abbiamo studiato Lucrezio, che cos'è un poema di Dascalico? È un poema chiaramente in versi, i toni sono quelli dell'epica, tipici dell'epica, ma che ha un intento didattico, ha un intento educativo. Di che cosa parla nel Giorno? Il Giorno lo dice il titolo stesso, racconta quella che era la giornata di un nobile, del cosiddetto giovin signore. È chiaramente un'opera assolutamente ironica e satirica, dove in realtà Parini prende a bersaglio quella che era la frivolezza, la superficialità, la vacuità della vita dei nobili, che andavano dietro a cose completamente inutili, come la moda per esempio. In realtà, al di là degli elementi comici che noi troviamo nel Giorno, che sono sicuramente molto forti, troviamo anche l'amarezza e la feroce satira, perché molto spesso Parini, mentre racconta la giornata assurda di questo giovin signore, in toni assolutamente epici, a lato spesso fa il raffronto con quella che è la realtà del popolo e quindi spesso c'è anche questo lato, questo risvolto amaro all'interno del giorno. De Santis, lo dicevamo prima, è un grande critico letterario, ha amato molto Parini e citiamo qui un'altra frase di De Santis, sempre sul Parini, dove dice Parini è come un uomo a cui sanguina il cuore e che fa il riso allegro. Perché questo? Perché nel Giorno noi troviamo il dolore anche di un uomo che si rende conto di quanto sia terribilmente ingiusta la società della sua epoca, ma che allo stesso tempo ha quell'intelligenza per riderci sopra. E questa forse è la grandezza diciamo del giorno. Il giorno è un'opera che in realtà Parini non ha mai terminato, era un'opera che doveva essere divisa nei vari momenti della giornata, quindi nel mattino, nel mezzogiorno, nel vespro e nella notte. Ma sia il vespro che la notte sono due parti incomplete. Ci sono arrivate delle testimonianze manoscritte, il vostro libro in realtà fa un riassunto abbastanza dettagliato nelle pagine 522-523. Cosa si racconta? Si racconta appunto di questo nobile che si sveglia praticamente a mezzogiorno, mentre in realtà il popolo già è attivo, no? Gli artigiani, i contadini, lui invece si sveglia tardissimo e i suoi unici problemi sono se bere il cioccolato, il caffè, poi c'è tutta questa lunga digressione sulla toilette, che è un pezzo che fa veramente ridere, che sul vostro libro purtroppo non c'è, dove si racconta in toni assolutamente epici di come appunto il giovin signore si lava come in una sorta di battaglia fra saponi e spugne e poi c'è la vera e propria vestizione, no? Che ricorda il topos della vestizione dell'eroe che troviamo nei poemi epici, no? Poi insomma lui passa dal parrucchiere, fa qualche lettura alla moda e a mezzogiorno incontra l'amata, no? La donna amata, anche questo chiaramente è un topos letterario, donna amata che però è ahimè sposata e qua sostanzialmente in realtà Parini prende in giro quello che era il fenomeno tipicamente settecentesco del cicisbeismo. Allora chi erano i cicisbei? erano questi signorotti, praticamente erano dei damerini che facevano da compagnia le grandi dame, dame che erano effettivamente sposate e che amavano avere questo damerino che le teneva compagnia e le intratteneva, no? Le accompagnava ai pranzi e alle feste e poi insomma a volte ci scappava anche la scappatella amorosa detta come va detta e poi insomma la giornata prosegue, no? Con diciamo altre attività, la passeggiata in carrozza e alla sera poi tutti si riunivano, no? A fare i giochi da tavolo. Comunque al di là del riassunto dell'opera è quello che è veramente importante è il tono che Parini usa. A livello formale Parini usa l'endecasillabo sciolto. Cosa vuol dire l'endecasillabo sciolto? Ovviamente l'endecasillabo era il verso tipico del poema, no? Del poema epico sciolto nel senso che non usa le rime e qua veramente Parini fa un'innovazione fortissima perché chiaramente togliendo la rima il verso è molto più libero, ok? Molto più libero e può simulare anche quelli che sono i toni della conversazione. In questo anticiperà tantissimo quello che sarà l'usus di altri tre grandissimi poeti che scriveranno dopo Parini. Vincenzo Monti che tradurrà l'Iliade in l'endecasillabo sciolto appunto. Ugo Foscolo e Giacomo Leopardi che useranno proprio l'endecasillabo non rimato. È veramente un anticipatore di un modo di fare poesia assolutamente moderno. all'interno dell'opera troviamo un uso molto vario di registri, ok? Molto spesso troviamo anche registri tratti proprio dalla lingua aulica tipica dell'epica ma chiaramente il tono è assolutamente ironico e sarcastico. Il tutto ci viene raccontato da quello che dovrebbe essere il precettore di questo cicisveo che lo sveglia fin dal mattino e poi gli dice tutte le cose che deve fare. Le prime due parti il mattino e il mezzogiorno sono diciamo due parti nelle quali Parini aveva ancora ottimismo e quindi tutto sommato sperava di veramente di ottenere un intento educativo con quest'opera. Nel Vespro e nella Notte siamo nella fase finale dell'opera di Parini dove Parini è un pochino più disilluso e pessimista e quindi perde anche un pochino quella verve ironica che aveva diciamo all'inizio. Leggiamo un pezzettino del risveglio del Giovin Signore che è trovata a pagina 528. Leggiamo a partire dal verso 92. Allora tutta la prima parte è una parte giocata sul doppio binario cioè da un lato c'è il mondo che si risveglia, gli artigiani che si svegliano all'alba per fare il loro lavoro e questo insomma nobile ridicolo che si sveglia praticamente a mezzogiorno perché ha passato la notte a giocare e questa parte che noi leggiamo è una parte molto divertente dove praticamente a un certo punto entra un paggio il cosiddetto damigel che gli chiede se voglia bere la cioccolata o il caffè come se fosse una decisione difficilissima complicatissima e guardate che tono usa Parini. Ma il damigel ben pettinato e crini è così inoltre e con sommessi accenti chiede qual più delle bevande usate sorbir tu goda in preziosa tazza e dice ma il damigello il paggetto tutto bello pettinato carino entra nella camera e con sommessi accenti quindi un pochino sottovoce molto diciamo riservato e rispettoso del risveglio del giovine signore gli chiede quale fra le sue bevande voglia di quale bevanda si voglia deliziare deliziare chiaramente con la sua tazza super preziosa piena di gemme dorata no? Indi che merci sono tazza e bevande scegli qual più desì e dice sia la tazza che le bevande sono indiane no? Sono merci indiane chiaramente si riferisce a molto probabilmente l'India occidentale quindi l'America e a questi prodotti tipo il caffè e la cioccolata che arrivavano appunto dall'America no? Soggi a te giova porge il dolce allo stomaco fomenti onde collegge il natural calore varda temprato e al digerir ti bagna tu il cioccolate leggi onde tributo ti die il guatimalese e il che di barbere e penne avvolto al crime cosa dice? Dice se oggi ti giova no? Se oggi hai voglia di dare un po' di dolcezza ai fomenti del tuo stomaco dice da cui con misura no? Collegge il natural calore il calore della cioccolata arda no? Dentro lo stomaco temperato no? Quindi un giusto calore e ti serva a digerire dice scegli il cioccolate onde dice onde tributo ti die il guatimalese e il caribeo no? Che ti hanno portato in tributo come dono il guatimalese e il cittadino insomma l'uomo che viene dai caraibi dice che di barbare penne avvolto al crime che ha i capelli adornati con piume barbare esotiche dice ma se noiosa ipocondria ti opprime o troppo intorno alle divine membra a tipe cresce dei tuoi labbri onora la nettarea bevanda ove abbronzato arde e fumica il grano a te da leppo giunto e da moca che di mille navi popolata mai sempre insuperbisce e dice ma se sei un po' disturbato di pancia no? Qui ipocondria non si intende tanto l'ipocondria come intendiamo noi ma sì un po' di malessere e dice se sei un po' troppo grasso dice se intorno alle membra divine no? Ti cresce un po' troppo lardo dice onora le tue labbra con la bevanda quasi divina no? Dice nettarea è un nettare quasi divina e chiaramente si riferisce al caffè dice ove abbronzato dove tostato arde e fumica il grano che è venuto per te da leppo quindi dalla siria e da moca siamo nello yemen che di mille navi popolata mai sempre insuperbisce che pullula sempre più di migliaia di navi perché erano le zone da dove appunto arrivava generalmente il caffè certo fu duopo che dai prischi seggi uscisse un regno e con audaci vele fra straniere procelle e novi mostri e teme e rischi di inumane fami superassi i confini per tanta età dei inviolati ancora e ben fu dritto se bizarro e cortese umano sangue più non stimar che oltre l'oceano scorrea le umane membra e qua è veramente terribile è ferocemente satirico vedete cosa dice sicuramente dice certo fu duopo certo fu necessario che dagli antichi seggi uscisse un regno qua si riferisce alla spagna che con vele audaci e qui fa riferimento al viaggio di colombo fra tempeste straniere nuovi mostri nuovi timori e rischi e fami atroci superassi i confini per tanta età dei inviolati ancora che erano rimasti per tanti secoli assolutamente inviolati cioè sta dicendo fortunatamente c'è stato un regno il regno di spagna che ha osato superare i confini delle colonne d'ercole che per tanto tempo erano rimasti inviolati e dice ben fu dritto e fu assolutamente giusto se bizarro che è quello che ha conquistato il perù e cortese che invece è stato chi ha conquistato il messico umano sangue più non stimar quel coltre l'oceano scorrea le umane membra qui è veramente terribile dice fu giusto che questi non considerassero umano il sangue che scorreva nelle membra degli uomini che vivevano oltre oceano e fa riferimento chiaramente alla strage degli indios che invece che essere considerati degli esseri umani vennero trattati veramente come bestie e qui fa proprio riferimento a c'è proprio il contrasto no tra il genocidio di queste popolazioni perché in definitiva è stato proprio un genocidio e questo giovin signore invece che si diletta no che non sa se scegliere tra la cioccolata e il caffè e setonando e fulminando al fin spietatamente il balzaron giù dai grandi aviti troni re messicani generosi incassi poiché nuove così vennero delizie o gemma degli eroi al tuo palato e dice ha fatto bene se tonando e fulminando no sparando con le armi da fuoco alla fine buttarono giù dagli aviti troni chi i re messicani e i re incas no affinché arrivassero al tuo palato tu che sei gemma degli eroi simili delizie e qui è veramente molto molto sarcastico poi leggiamo la vergine cuccia questo è veramente super super famoso l'ho trovata pagina 542 siamo a mezzogiorno mezzogiorno per modo di dire perché questi poi pranzavano un'ora incredibile sono a tavola e stanno discutendo no di cibo ovviamente e a un certo punto salta su un commensale vegetariano e dice ma no poverini questi animali cosa mangiano la carne no insomma mentre fa questi discorsi c'è la dama che è l'innamorata no del giovine signore che si commuove si commuove perché pensa a un aneddoto durante il quale un suo servo aveva dato in calcio alla sua cagnetta la cosiddetta vergine cuccia e qui c'è proprio tutta la descrizione dell'episodio e vedrete che anche qua si conclude in maniera amarissima allora c'è la vita pagina 542 tal lei parla o signor ma sorge intanto a quel pietoso favellar dagli occhi della tua dama dolce lagrimetta pari alle stelle tremule trebilillanti che alla nuova stagione gemendo vanno dai palmiti di bacco entro commossi al tiepido spirar delle primaure fecondatrici e dice quel signore parlava in questo modo e nel frattempo scatuisce a quel pietoso favellar no a quella a quelle parole pietose dagli occhi della tua dama una dolce lacrimetta che lui paragona praticamente alle gocce scintillanti no che escono dice dai palmiti di bacco quindi dai dalle viti no dalle da dai tralci di vite alla nuova stagione quindi quando arriva la primavera che dentro no stanno tutti commossi no dice stanno interamente stimolati dentro i rami e all'ospirare no delle della primaria primaverile dice fecondatrice vengono fuori or le sovviende il giorno ai ferogiorno allor che la sua bella vergine cuccia delle grazie alunna giovinilmente vezzeggiando il piede villan del servo con gli eburne i denti segno di lieve nota e dice a quel punto alla dama le viene in mente il giorno dice a feroce giorno nel quale la sua bella vergine cagnolina che lui definisce discepola no addirittura delle grazie da quanto era bella che per scherzare come fanno i cucciolotti dice che cosa fa addenta il piede del villan servo con gli eburne i denti con i denti d'avorio qua non vi può non venire in mente l'addone di marino e gli lascia praticamente un segno su sul piede no e dice e questi audace col sacrilego pie lanciolla ed ella tre volte rotolò tre volte scosse lo scompigliato pelo e dalle vaghe nari soffiò la polvere rodente e dice e quello quell'audace il servo con il piede sacrilogo che cosa fa la butta per avia le dà un calcio ed ella rotola tre volte per tre volte si scompigliò il pelo e dalle vaghe nari guardate l'aggettivo no che viene affibbiato alle narici di questo cane che è il vago no il vago tipico aggettivo che usa Petrarca no per indicare qualche cosa di indefinitivamente indefinitamente bello no e anche questo è una cosa che è un aggettivo che riprende marino se vi ricordate anche se non è assolutamente è uno stile completamente diverso no e che cosa fa dalle vaghe nari dalle vaghe narici soffiò la polvere praticamente no rodente nel senso di urticante indi i gemiti alzando a ita ita parea dicesse e dalle aurate volte a lei la impietosita eco rispose e dall'infime chiostre i mesti serbi asceser tutti e dalle somme stanze le damigelle pallide tremanti precipitaro e qui succede di tutto succede un gran caos la cagnolina comincia a gemere e dice sembrava che dicesse aiuta aiuta aiuto aiuto e dice dalle aurate volte dalle volte d'oro no della dimora risponde addirittura eco eco che secondo gli antichi greci era una divinità ed era una divinità che rispondeva no alle ai rumori alle urla no ai gridi e praticamente il guaito del cane rimbomba no nel palazzo e dice dagli infini dai piani inferiori arrivano in servia arrivano accorrono tutti perché sentono tutto sto gran caos e addirittura dalle dalle somme stanze dalle stanze superiori arrivano le damigelle pallide sconvolte tremanti accorse ognuno il volto fu d'essenze spruzzato alla tua dama e la rimvenne al fine praticamente la dama è svenuta e dice tutti vanno dalla dama e costargono il suo volto di essenze profumate per farla rimvenire lei rimbiene ire e dolore l'agitavano ancor fulmine i sguardi gettò sul servo e con languida voce chiamò tre volte la sua cuccia e questa al sen le corse in suo tenor vendetta chiederse in brolle e tu vendetta avesti vergine cuccia delle grazie alunna e dice ira e dolore no erano nel quale agitavano il cuore della donna e che fulminò con lo sguardo il servo no e con una voce languida chiamò per tre volte la sua cagnolina che fortunatamente non è morta perché praticamente il servo le aveva dato proprio un calcino piccolino piccolino e questa le corre al seno e dice che sembrava no voler chiedere alla sua padrona vendetta e dice tu vendetta vesti vergine cuccia delle grazie alunne qua ripete come se fosse un epiteto formulare proprio dell'epica appunto alunna delle grazie no discepola delle grazie l'empio servo tremò con gli occhi al suolo udì la sua condanna e il servo ha terrorizzato trema mette gli occhi posa gli occhi per terra in segno di umiltà e ascolta la sua condanna e qua praticamente la dama diventa achille ok achille vendicato vendicatore a lui non valse merito quadrilustre a lui non valse zelo d'arcani uffici e qua con questa anafora no di a lui non valse qui cambia completamente il tono parini qua diventa veramente molto molto amaro perché dice a lui al servo non servirono i meriti guadagnati quadrilustre dice nei vent'anni di servizio la sua padrona e dice a lui non servì a niente lo zelo dimostrato negli arcani uffici quindi compiti riservati doveva avere sicuramente un ruolo importante no dice e in nudo andonne delle assise spogliate onde pur di anzi rinsigna la plebe e dice se ne andò nudo spogliato della livrea la livrea era la veste no che avevano appunto questi servitori e che all'inizio lo rendevano insigne anche di fronte alla plebe e in vanno vello signor sperò che le pietose dame inorridiro e del misfatto atroce odiar l'autore e lui sperò di essere accolto da un nuovo signore ma le dame che avevano assistito a quella scena erano talmente inorridite che lui fu odiato sostanzialmente da tutti il perfido si giacque con la squallida prole e con la nuda consorte a lato sulla via spargendo al passeggero inutili lamenti e tu vergine cuccia idol placato dalle vittime umane isti superba e qui è terribile perché dice il perfido il servo praticamente diventa una sorta dimenticante no giace con la squallida prole quindi con figli e con la nuda moglie sul lato della strada sul ciglio della strada spargendo inutili lamenti al passeggero quindi piangendo e chiedendo aiuto ai passeggeri dice tu vergine cuccia tu vergine cagnolina che sei come un idolo no con una divinità placata con sacrifici umani te ne vai tutta superba contenta della tua vendetta quindi vedete quanto è più che ironia questo è proprio un sarcasmo molto feroce no c'è questo mondo luccitante questo mondo scintillante di nobili no che hanno anche una loro moralità per certi versi no questa dama che si indigna anche giustamente no per il calcio che è stato dato alla sua cagnolina ma che poi diventa mostruosa perché poi si accanisce con questo povero servo che finisce nella miseria più più assoluta grazie 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 grazie